L'Agenzia Music di Pino Laezza presenta un grande concerto. È arrivato il momento di ritrovarci tutti insieme. Al Play Dance. Uno spettacolo di musica, fantastico. Dalle ore 19. Tra balli e divertimento. Naturalmente vi invitiamo al nostro magico concerto. Il 27 novembre, in concerto. Carmen Porto e Rosario Daniel. Sì, ma quando? Il 27 novembre. Dove? A Giuliano. Sì, ma come arrivarci? Semplice, uscita Giuliano Parete, sinistra, sinistra, 500 metri e siamo arrivati. Dalle ore 19. Vi raccomando, vi aspettiamo dalle ore 19. Carmen Porto e Rosario Daniel. Rosario, ma per le prenotazioni e biglietti? Carmen, molto semplice, basta contattare i numeri sopra impressioni. Per prenotazioni, chiama l'agenzia music di Pino Laezza. E il biglietto ve lo portiamo noi a casa. E riceverai il biglietto a casa. Play Dance. Sì, sì, certo. E con molto piacere. Direttamente da Carmen Porte e Rosario Daniel. Il 27 novembre, in concerto. Al Play Dance, non mancare.